Allora, oggi faremo un nuovo esercizio a tempera e il nostro soggetto sarà un uovo al burro. Cominciamo a tracciare il nostro disegno con un carboncino. La prima cosa che faremo è l'ingombro di tutto il soggetto, quindi prendiamo le misure come di consueto, prendiamo la misura della larghezza e a questa distanza lo faremo due volte e l'altezza quindi iscriviamo in un rettangolo immaginario. Poi iniziamo a definire l'ellisse del pentolino, quindi tracciamo l'asse mediana dell'ellisse. Per disegnare bene l'ellisse più punti di riferimento abbiamo e meno difficoltà incontreremo. Per controllare le pareti del pentolino possiamo utilizzare il filo a piombo. Tracciamo tutta la costruzione dell'ellisse anche per la base. Osservate il soggetto. Tracciamo anche lo spessore del pentolino, il nostro uovo all'interno. Osservate bene gli spazi che si creano tra l'uovo e il pentolino. Poi per il manico controlliamo l'asse dell'inclinazione. Geometrizziamo prima e solo successivamente disegniamo la curva. Correggiamo dove serve. Poi disegniamo l'ombra portata. Osservate il soggetto. Possiamo iniziare a fare anche le ombreggiature. Per distinguere due piani, verticale ed orizzontale, basterà differenziare solo l'inclinazione del tratteggio. Evitiamo così di riempire di grafite il disegno preparatorio. Osservate continuamente il soggetto. Cercate di non avere fretta nell'ultimare il disegno. Perché avere una buona base di disegno vi aiuterà quando sarà il momento di dare il colore. Ombreggiamo un po' il fondo. Anche perché la parte di massima luce sarà quella sul piano orizzontale. Cominciamo a dare il bistro. Quindi partiamo sempre dal blu. Aggiungiamo il giallo. Facciamo un verde molto bluastro. E a questo aggiungiamo il rosso. Aggiungiamo un po' di bianco per controllare la qualità del nostro bistro. che ha bisogno di un filino di giallo. Poi acqua. Perché daremo il nostro bistro molto diluito. Ok. Cominciamo a dare il bistro su tutte le zone in ombra. Dove avevamo dato precedentemente il chiaroscuro con il tratteggio. Il bistro deve essere sempre molto trasparente. In modo tale che si intraveda la traccia del disegno sottostante. Andiamo col bistro sul fondo. Ricordate di partire sempre dal soggetto. E poi spostarvi all'esterno. Allora prepariamo il colore del fondo. Un po' più di rosso. E anche un filino più diluito. Ricordiamo che il fondo va sempre seguito per prima. proprio perché dovremo poi bilanciare i colori del soggetto in base al fondo. Osservate il soggetto. E modificate il vostro colore di fondo in base alle variazioni che notate sul vostro soggetto. Qui aspetta lo faccio un po' più liquidino. So chiudete gli occhi per vedere più chiaramente le zone principali di chiaro e di scuro. Ricordate che la tempera quando asciuga sarà più chiara del 30%. Passiamo all'ombra portata. Grazie. 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 Allora, per il colore del pentolino dobbiamo fare un arancione partendo da rosso, aggiungiamo il giallo, ancora un po' di giallo e poi un po' di bistro, penso che ci vorrà anche un po' di bianco. Allora, vediamo un po', aggiungiamo un po' di bianco, osservate il soggetto Allora, vediamo un po' di bianco Allora, proseguiamo con la parte in ombra del pentolino, l'uovo all'interno sarà l'ultima cosa che faremo, perché nel caso dell'uovo il fondo è costituito dal pentolino, quindi finiremo prima il pentolino e poi passeremo all'uovo, così visse la gallina il cocodè. Schiariamo un po'. Bene, molto bene. La voce fuoricampo. La voce rassicurante fuoricampo. Hai detto bene. La parte in basso un po' perdina. Come ultima cosa facciamo la parte in luce. Torniamo sulla base interna del pentolino, aggiungiamo un po' di magenta e un po' di giallo. Schiariamo la parte della curvatura. Quest'ultima parte sarà ancora ulteriormente chiara. Notate quante variazioni di colore possiamo ottenere con i soli tre colori fondamentali più il bianco. Allora passiamo al bianco dell'uovo che possiamo ottenere riscaldando il bianco con un po' di color terracotta che abbiamo già pronto in tavolozza. Possiamo ulteriormente riscaldarlo sulla parte destra. Osservate continuamente il soggetto. Noterete quanti tipi di bianchi diversi ci sono e otterremo i vari tipi di bianchi sia mescolando il colore in tavolozza che cambiando anche la diluizione del colore. Per questa ragione è meglio lavorare su un fondo colorato, diciamo neutro e non bianco. Passiamo al tuorlo. Osservate il soggetto. Le variazioni del tuorlo le otteniamo variando le percentuali di giallo, di rosso e in alcuni casi con l'aggiunta del bianco. facciamo la parte in luce con più giallo, cercando di dare l'idea della sfericità del tuorlo. E poi passiamo ai dettagli. Allora adesso mettiamo le massime luci sull'uovo. Sciacquiamo il pennello e sfumiamo un po' in modo da non avere un segno netto. Deve sentirsi un po' la barra dell'uovo, quello non cotto. In questa fase lavoriamo solo con le velature. Andiamo nella parte chiara una velatura. Attenzione a non calcare troppo, se no tirate via ciò che c'è sotto. Rinforziamo l'ombra portata. Sciacquiamo il pennello. schiariamo la parte in luce per dare ulteriormente l'idea della luce e che il nostro pentolino appoggia su un piano. Il colore è sempre molto diluito. ritraiamo il colore della terracotta e andiamo a sistemare ciò che abbiamo perso magari. raggiungiamo un po' di giallo e bianco. facciamo un colore terracotta un po' più verdino per la base. insieme al pennello di costa. Schiariamo il bordino del pentolino. Allora aggiungiamo ancora un po' di giallo e facciamo la parte più in luce. un po' di giallo e facciamo la parte più in luce. osserviamo sempre il soggetto. schiariamo anche la parte in luce del manico. possiamo lavorare anche con le velature. mettiamo la massima luce sul bordo del pentolino. sul brodo del pentolino. schiariamo le due estremità. la sfumiamo un po'. sfumiamo le estremità. lo stavo dicendo. la sfumiamo un po' di giallo. aggiungiamo qualche altra luce sul tuorlo. aggiungiamo anche qualche ombra dove vediamo i punti più scuri. con il nastro nero facciamo un'inquadratura provvisoria. il lavoro è pronto per essere incerato. con della cera in pasta neutra e una pezzuola di lana diamo la cera sul nostro dipinto. abbondante. per dare la cera assicuratevi che il dipinto sia perfettamente asciutto. lasciamo asciugare la cera per un paio d'ore o anche più, meglio abbondare. e poi lucideremo. con un panno di lana pulito andate a lucidare la nostra tempera con dei movimenti circolari e in maniera energica e veloce la nostra tempera è finita. arrivederci alla prossima puntata. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.